Le regole ci sono, ma spesso è la cultura del turismo montano a mancare e chi frequenta le nostre montagne spesso non ha la minima idea di come ci si comporta. Regole anche ferre che spesso però non vengono rispettate, il riferimento è anche a quanto accaduto a Fontevetica con l'incendio solo poco tempo fa. Piuttosto sarebbe necessario informare e mettere in campo azioni diverse dalla pura e semplice repressione e sanzione. Parola del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, Tommaso Navarra. Le regole peraltro in termini di assoluta forza e con carattere stringente ci sono, nel senso che all'interno del perimetro del parco è vietato accendere fuochi, è vietato campeggiare liberamente ed è vietato il semplice transito sul manto erboso. Quindi quelle persone in quel luogo non ci potevano stare e soprattutto in quel luogo non potevano accendere qualsiasi tipo di fuoco. Però abbiamo un problema culturale, cioè chi frequenta la montagna può ancora pensare di recarsi su una prateria che è una prateria di valenza mondiale per farsi le classiche rostelle? Punto interrogativo. Sanzionare è la cosa più semplice perché in realtà è una risposta immediata che però non toglie il profilo culturale. Dobbiamo lavorare sul profilo di prevenzione e sul profilo culturale. Il problema è anche il controllo del territorio. Prima la forestale agiva come una vera e propria sentinella, poi la fusione con i carabinieri. Purtroppo, rileva il presidente del parco, i carabinieri forestali sono pochi rispetto a quello che è il perimetro del parco nazionale. Ci assumiamo rispetto alla gestione dei comandi stazione in realtà una spesa di circa 500.000 euro annui anche per i mezzi e tutte le strutture. Però qual è il problema? Che abbiamo 102 soltanto appartenenti al corpo forestale dello Stato, oggi carabinieri forestali. Per quanto spazio? 150.000 ettari. Quindi capiamo di che cosa stiamo parlando. E quindi c'è sicuramente una difficoltà di controllo e di azione del territorio.